Il 15 marzo è stato sgombrato e chiuso il campo di via Idro. La polizia locale continua a presidiare e monitorare l'area. L'accesso è stato impedito con il posizionamento di New Jersey. Nell'operazione sono stati coinvolti, oltre alla polizia locale, gli operatori del comune, polizia di stato, carabinieri, vigili del fuoco, croce rossa e protezione civile. Sono ancora in corso da parte di AMSA e metropolitana milanese i lavori di demolizione dei manufatti e degli impianti idrico ed elettrici. La zona sarà restituita a verde e insieme al consiglio di zona e ai cittadini sarà decisa una nuova destinazione. Al momento dell'intervento erano presenti 94 persone su 106 residenti censiti. In 6 erano assenti per detenzione e in 80 hanno accettato l'accoglienza delle strutture messe a disposizione dal comune. In 12 sono stati accolti nel centro di autonomia abitativa di via Ponti, 19 in quello di via Marotta, 7 nel centro di via Brambilla. Nei centri di emergenza sociale sono andate 30 persone e 12 sono state accolte al villaggio di via Martirano. Una decina di persone hanno scelto di trovare una sistemazione in modo autonomo. Grazie a tutti.